E allora ne parliamo con Matteo Morovicic della TGR Veneto che è in collegamento da Borgo Trento a Verona e con il professor Fabio Mosca, presidente della società italiana di neonatologia e primario della terapia intensiva neonatale dell'ospedale maggiore policlinico di Milano. Iniziamo da te, da Matteo. Il Ministero della Salute ha annunciato l'invio di ispettori all'ospedale di Verona e il ministro Speranza oggi in prima pagina sul quotidiano alla stampa dice che chi ha fatto morire i neonati dovrà pagare. Allora, aggiornaci sulle ultime novità, Matteo. Buongiorno, intanto, sì, come ricordavate, questi sono gli ultimi contorni della vicenda. Si attende l'arrivo degli ispettori inviati dal Ministero della Salute. Intanto cominciano anche a delinearsi quelli che sono i profili dell'inchiesta che è stata aperta dalla Procura di Verona a seguito degli esposti, vi ricordiamo, delle mamme che hanno subito la morte dei figli. Questa inchiesta al momento, c'è da dire, non ha indagati, però sembra incardinarsi sull'ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario, tradotto nel concreto, cioè praticamente una responsabilità da parte di chi doveva vigilare per aver creato la morte o lesioni personali appunto in questo ambito. È un'inchiesta che sta muovendo i primi passi, stanno indagando i NAS di Padova in questa chiave. La Regione intanto ha chiesto il pugno duro per quanto le compete. Dopo l'invio a Venezia della relazione ispettiva dei commissari nominati dalla Regione, appunto, c'è stato l'invio di una lettera da parte del Direttore Generale della Sanità, al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Verona, in cui nero su bianco proprio si dice di prendere tutti i provvedimenti necessari per fare chiarezza sul caso, provvedimenti che possono comprendere addirittura il licenziamento del Direttore Sanitario o comunque azioni disciplinari nei confronti dei dipendenti dell'azienda stessa. Tutta la vicenda nasce nel 2019 quando la madre di una prima bambina deceduta, Francesca Frezza, ha cominciato a rendere pubblica la vicenda della figlia, da lì ne è nato un cancana anche tra le madri, un'indagine esposti e siamo arrivati a questo punto, con i 100 contagiati e i 4 decessi. Grazie Matteo, grazie Matteo per la cronaca di questi fatti. Adesso però andiamo dal professor Fabio Mosca, per il quale ho delle domande molto precise. Allora, intanto cos'è il citrobacter, dove si trova, quando, in quali condizioni può diventare così pericoloso e infine gli antibiotici sono sufficienti per debellarlo? Il citrobacter è un germe gram negativo che causa delle infezioni, direi anche abbastanza raramente, raramente causa le sepsi neonatali, quindi tutti i problemi che abbiamo visto a Verona, è un germe che può essere presente anche come saprofitta, quindi come un germe innocueo nell'adulto, dove in certi casi peraltro poi può causare anche infezioni del tratto geniturinario, ma il problema è che come per tanti altri germi, questo germe che potenzialmente è molto cattivo, quando trova delle condizioni che lo facilitano, il neonato prematuro è un neonato immunodepresso, che non è capace tanto di difendersi, si scatena e ha il grande problema di avere una particolare attitudine a entrare nel cervello e a causare meningiti e encefaliti e quindi poi danni cerebrali che abbiamo visto. Purtroppo accompagnare questi bambini, io come presidente della società scientifica voglio anche portare il mio abbraccio affettuoso alle famiglie così duramente colpite e anche a tutti i medici e gli infermieri anche di Verona che ovviamente sono molto colpiti da questo evento perché tutti noi quando curiamo i neonati li trattiamo come se fossero nostri bambini. Professor Mosca, nella relazione della Commissione Ispettiva Verona si parla, l'abbiamo detto, della presenza del citrobacter nei filtri del rubinetto dell'acqua, nei biberon, ecco ma in questi reparti non si dovrebbe utilizzare acqua sterile e poi comunque sono reparti di terapia intensiva neonatale, quindi anche il personale deve comunque rispettare delle regole rigide di pulizia, di igiene? Guardi, togliamo subito qualche dubbio rispetto all'acqua. L'acqua del rubinetto si usa per lavarsi le mani, quindi si usa ovviamente dell'antisettico ma ovviamente si risciacqua le mani con l'acqua. Se nell'acqua c'è il citrobacter, quando lei si risciacqua nel normale lavaggio antisettico che è previsto da tutte le linee guida e procedure si rinfetta le mani col citrobacter e poi pensando di avere le mani pulite e lavate lo porta in giro. Quindi questo è un primo rilevante problema. Poi è vero anche che ci sono altri presidi, quindi ci sono soluzioni alcoliche che permettono anche di disinfettarsi le mani, ma certo un vero problema è che non ci deve essere questo battere nell'acqua. Per evitarlo si possono anche mettere dei filtri che trattengono i batteri, si possono fare dei controlli man mano sull'acqua, sono tutte cose che ovviamente la relazione e poi visto che siamo in uno stato di diritto ci saranno anche le controdeduzioni sia dell'ospedale sia delle persone coinvolte e vedremo. Però non è che non si usa l'acqua nelle parti di terapia intensiva. Certo, non usiamo per esempio l'acqua del rubinetto per il latte. Il latte che utilizziamo è il latte che è già diluito, che viene venduto, confezionato, già in confezione liquida, quindi non usiamo certo l'acqua del rubinetto per il latte. No, no, è molto parole nette le sue, professor Mosca. Grazie, grazie per essere stato con noi. Adesso diamo subito la linea.